Presidente, non possiamo lamentarci dopo una bella prova che non è scaturita una vittoria soltanto per sfortuna direi, no? Ma sfortuna sì, non so se si può chiamare tale, però se non la butti dentro poi non vinci. Oggi purtroppo era un risultato alla nostra portata, hanno fatto un grosso salto in classifica, però non è successo. Comunque la carica da Montero c'è, ma è importante per la squadra, i giocatori stanno facendo la loro parte. Sì, fanno la loro parte, però ci manca quella determinazione per portare a casa i tre punti. Speriamo che a Ravenna tutto cambi, no? Andrà a Ravenna e speriamo di portare fortuna. Grazie.